Poi, prima di tutto, sempre come l'ho detto più di una volta, ambienti così sono molto bello, già dal Potti 3 era previsto, praticamente due squadre forti e forti, dopo noi al terzo Potti, il quinto. Poi un gruppo, come tanti altri, molto duro, difficile, oggi non è semplice, tutte le squadre conoscono bene, c'è la tecnologia, si vede tutto, ma è un gironne da giocare, da lottare, da andare fino alla fine, perché è bello, da sognare di poter andare a un mondiale, poi quello veramente ci dà tanta energia. Ma guarda, è molto chiaro, perché è tutto molto veloce, non c'è tempo, meno si sbaglia, più c'è anzi di andare in avanti. Oggi, da oggi, andiamo tutto a zero, iniziamo da zero, poi tutti, tutte le squadre pensano di andare in avanti, questo è un sogno per tanti, e noi sogniamo, però dobbiamo sbagliare poco, ma noi, tutti, si vuole andare in avanti, il pensiero veloce è quello, dai, sbagliare poco. Si sbaglia poco, c'è la possibilità di andare in avanti, arrivare là, ottobre, novembre, con possibilità di andare a un mondiale, è un girone difficile, come tanti altri, ma da lottare e da sbagliare il minimo possibile.